Salve ragazze, questo video oggi riguarderà un pacco che mi è arrivato, è brutto dire pacco, sembra una fregatura, comunque un ordine che mi è arrivato da QVC, un ordine di prodotti della Bare Minerals, ecco. E il tutto mi è arrivato in una scatola e composto da questa bellissima pochette e all'interno tutti i prodottini, benissimo ragazze, vediamoli un attimo nel dettaglio. Diciamo che, e questo io, come dire, l'ho capito perché ho sempre visto delle confezioni diverse della Bare Minerals, sono delle Limit Edition. Ecco, allora, mi è arrivato questo bellissimo gloss, di quelli rimpolpanti, un bellissimo colore, questo è il suo pennellino, ve lo suoccio, è davvero carinissimo. Ecco, quindi questo gloss, poi, questa palette, vedete com'è bella ragazze, è dorata, è carinissima, con all'interno quattro ombretti, che vi faccio vedere. Ecco, io intanto farò così, qui c'è il suo pennellino, sono davvero carinissimi, dei colori stupendi. Io avevo già adocchiato, vi dico la verità, questo marchio, e proprio davvero volevo fare un ordine sul sito. Fatto sta che è così, guardando, ho visto appunto che su QVC li vendevano e c'era questa offerta. Altri ombrettini, questi sono molto particolari, adesso vi farò vedere, perché praticamente possono essere usati sia come ombretti e sia come eyeliner. Anche questi, bellissimi ragazze, guardate che colori meravigliosi. E poi queste confezioni, sono tanto belle. Poi mi sono arrivate, mi è arrivato questo Fard Minerale, Perfect Rose. Ecco, io ve lo faccio vedere così ragazzi, non so se metterà a fuoco. Ecco, ecco il classico Fard Minerale. Un bellissimo colore. La cipria minerale, questa. Non so ragazze, se riuscirete a vedere. Anche essa bellissima, adesso poi verificherò anche il colore. Vi dico la verità, non l'ho ancora aperta, perché... Devo un attimo vedere, perché non vorrei andare a perdere tutto il contenuto. E poi mi sono arrivati, bellissimi ragazze, due pennelli. Questo pennello, quindi per il blush. Bellissimo, morbidissimo, ma poi così dorato. Una gran chiccheria, davvero carino. E questo doppio, quindi la parte, diciamo, da sfumatura e la parte a penna per le liner. E questa è gommosa, eh ragazze? Cioè, adesso forse voi non riuscirete a vedere bene, ma è gommosa. Bellissimo. Devo dire che sono stata proprio contenta, contentissima. E poi la sua pochette, molto molto carina, che userò poi nella mia borsa. Ecco ragazze, un brevissimo video per farvi vedere queste cose fantastiche. E la promozione, non so se... O meglio, se è ancora possibile acquistare questo kit. Non ricordo il costo, ma penso di averlo pagato sul 40 euro. Quindi davvero molto vantaggioso. Provate a vedere sul sito QVC. Tra l'altro trasmettono anche per tv, quindi potete trovarlo sia online che per tv. E poi mi saprete dire... Bye bye! Buona giornata! Buona giornata! Grazie a tutti.